bella raga dal vostro grande capitano napoli sempre forza napoli benvenuti in questo nuovo video meno due a spal napoli valevoli per la nona giornata di serie a che si giocherà domenica alle ore 15 e ricordo che il vostro grande capitano napoli sarà allo stadio palomazza di ferrara ad assistere il mio amatissimo napoli farò vari video speciali come larvi direttamente dallo sagro trasferta tifosi napoli post partita direttamente dallo stadio palomazza di ferrara io abito a circa 100 120 chilometri da quella città le probabili formazioni potrebbero essere queste potrebbe esserci in attacco come a lecce il tante d'attacco milic che non ha giocato niente all'oriente che ha giocato solo pochi minuti in difesa dovrebbe essere confermato con libali luperto perché manolassa ha dichiarato che avverte ancora dolore e domenica non giocherà che potrebbe essere a sinistra il ritorno di gulan e a destra appunto balottaggio tra appunto di lorenzo e ma il quit secondo me a centrocampo ci può essere un turno di riposo secondo me per zilischi e magari giocare con un allan elmas e due esterni di centrocampo potrebbero essere insigne e fabio ruiz o fabio ruiz mezzala con calesione e il tante d'attacco appunto potrebbe essere composto da l'oriente e milica ma quasi sicuramente come formazione probabile ci saranno le idee molto più chiare molto probabilmente nella giornata di domani con anche concomitanze con chi sarà convocato per la trasferta di ferrara mettete un bel like a questo video chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale mettete un bel like a questo video sempre comunque forza napoli ciao